Ed è giunto il momento di stare bene. Questo è l'ultimo dei quattro modelli che ho iniziato a produrre. Qui stanno già prendendo, allora adesso io lo raspo in modo che stia poi bene. Le persone che guardano e ridono, sono felici, spero che se ne rendano conto, ma se non se ne rendano conto comunque la felicità li fa sorridere. Adesso vi devo firmare. Quello lo firmerò quando sarà la borsa. Ok, poi vediamo quella salti fuori, la rissecchia. Che la sognavamo, ma quanto è meglio così, che se andassi siamo qui, con la bacia di noi, vola nel cuore. Uguale il suo tempo, è il primo Kamasutra che colo nello stampo, dopo aver deciso con quelli modelli. che è il momento del tempo. C'è, 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 c'è la grazia del cielo. E' sempre delicata la faccenda. E' un patto alla rovescia. Usa. Questo, il c'è, 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 c'è storia! Questo, il c'è storia... Mamala Ok Silvia questo qui è quello che ho fatto da dipingere come arvecchino c'è il glande che è grande 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 così grande è solamente lui questo Silvia è quello che noi faremo con le maschere dipinto e lucidato e questo è l'ultimo che dovrebbe essere il centro e questo è quello che c'è questo è quello basico questi sono i quattro c'è dell'apocalisse che sono nati per essere prodotti e venduti sia a basso prezzo sia a prezzo onesto quando è lavorato ottimamente e ancora oltre questi sono i primi quattro c'è e questa è la mia faccia con una delle sette camicie che mi fa piacere per il momento è abbastanza diciamo che vediamo a Davide cosa dice cosa dice Davide? sei contenta che ti abbiamo fatto i nuovi modellini da vendere per finanziare il progetto che strablierà il mondo? sei pronte? e allora siateci pronti TA